benvenuti oggi parliamo di tesseract ne ho discusso velocemente illustrando poi una macro che farò vedere a fine di questo video l'utilizzo sul sito trovate l'articolo nella descrizione del video e oggi invece voglio parlare un po più nel dettaglio non della macro stessa ma di come funziona tesseract cosa può servire e perché è uno strumento interessante e utile da conoscere su mac ma non solo perché lo vedremo dopo tesseract è multipliata forma questo video fa parte di una serie di video che mi ripropongo di creare nei prossimi mesi sostanzialmente per illustrare un po meglio quella che è una cosa abbastanza sconosciuta per gli utenti mac ovvero il terminale tesseract nella sostanza è un dispositivo di un programma di ocr quindi di riconoscimento ottico dei caratteri di un documento e la particolarità è quello che lo potrebbe rendere ostico ai più è il fatto che funziona rega di comando ho già fatto un video su ombrio e ne seguiranno altri su altri strumenti a rega di comando oggi incentrerò il tutto su tesseract perché quindi è interessante tesseract innanzitutto la prima cosa che può sembrare banale ma non ha un costo per utente finale è infatti un software open source sviluppato un progetto sviluppato originariamente da hp i risultati di riconoscimento del testo sono buone ovviamente se l'immagine che viene data in pasto diciamo a tesseract ha una risoluzione adeguata almeno 150 dpi e ovviamente il foglio diciamo il documento analogico da cui è tratto la scansione che poi ovviamente viene data in pasto a tesseract è sufficientemente contrastato nel caso specifico il mio consiglio è di utilizzare ovviamente una scansione in bianco e nero al più in scala di grigi l'altra cosa interessante di tesseract è che è quindi mac os windows linux e credo anche android l'unico non è presente su ios anche se credo che mentre facevo le ricerche su questo su questo software ci sia addirittura un tutorial per creare su ios un app per il conoscimento del testo utilizzando tesseract ma questo è un altro discorso che non è non è opportuno aprire oggi anche perché ios ha già nella sostanza un sistema di riconoscimento del testo ma appunto eventualmente se ci saranno se c'è interesse ne possiamo parlare in un altro video differente la cosa interessante è che permette appunto di estrarre il testo da un'immagine documento e con alcune accortezze che vedremo oltre è possibile rendere quindi ricercabili i pdf sia con ricerca all'interno del pdf stesso sia che ancora più interessante una volta che sono questi pdf vengono resi ricercabili è possibile fare la ricerca direttamente all'interno di mac os attraverso spotlight o altri sistemi di ricerca o addirittura nel find l'altra cosa molto interessante che rende l'ocr uno strumento utile secondo me è quello che una volta in cui questi documenti sono stati sono stati convertiti anche in testo questi pdf diventano sottolineabili e quindi si riesce si riesce a lavorare totalmente in digitale senza dover passare all'uso della carta e così via come sempre questa è un software open source è un software quindi gratuito nella sua sostanza esistono delle delle altre realtà commerciali e oggi non ne parleremo hanno ovviamente tutti dei costi variabili diciamo tendenzialmente almeno una cinquantina d'euro in su e software che possono interessarvi per mac os sono ocr kit che io utilizzo ogni tanto molto carino diciamo ha la possibilità ovviamente di fare l'ocr sui pdf ma la cosa interessante è che potete dare l'impasto più pdf e lui in automatico fa l'ocr di tutti i pdf che gli avete dato in il più blasonato e noto e che non fa solo ovviamente attività di ocr è acrobat pro dc ma ha un costo tra i 18 e 20 euro credo al mese in abbonamento quindi ha un costo significativo annuale altra soluzione possibile sempre su mac os è pdf pen pro che ha il vantaggio di avere un interfazio di avere funzionalità più o meno simile a quelle di acrobat pro ma avere un costo inferiore nel senso che è un acquisto singolo su mac app store che vi permette poi di utilizzarlo su più eventualmente su più mac contemporaneamente prima di farvi di vedere l'installazione di tesseract e come funziona riga di comando alcune considerazioni alcune limitazioni di questo strumento software sostanzialmente tesseract nasce per fare l'ocr di immagini cioè deve essere passata un'immagine a tesseract per la sua conversione in testo semplice piuttosto che in un pdf con un livello nascosto tra chiamiamolo così in cui il testo riconosciuto è presente e quindi è possibile fare l'italia in colla e sottolineare e così via con quest'articolo o nella sostanza è ottimizzato e automatizzato l'opzione di ocr da pdf a pdf con una conversione intermedia ovviamente da immagine che vedremo nel dettaglio dopo come funziona come potete farlo manualmente se volete farlo ovvero appunto se avete keyboard maestro non sono ancora riuscito a creare un'azione con automator per fare tutte queste operazioni perché sono un po complicate sotto vi permette nella sostanza se avete keyboard maestro di evitare il passaggio diciamo a terminale a righe di comando e praticamente direttamente dal finder con una scocciatoia tastiera potete convertire direttamente il vostro pdf originale scansione di un documento in un pdf con anche l'ocr ultima cosa prima di iniziare il sito di tesseract trovate su github è questo e cliccando qui in questa pagina che ho già aperto avete tutte le indicazioni sul suo funzionamento generale vedete queste dopo lo vedremo insieme ma sono tendenzialmente le informazioni di base che ci interessano e qui in fondo nel supporto ovviamente trovate tutta la documentazione in questo caso l'ho già aperta e qui e potete avere ulteriori informazioni tesseract ovviamente fa tante altre cose oltre a quello che sarà lo scopo di questo breve video per cui se volete approfondire qui c'è tutto ovviamente l'unico limite è che è in inglese tutto in inglese e quindi dovete conoscere questa lingua bene a questo punto apriamo la nostra finestra di terminale io utilizzo launch bar e in questo caso digito appunto terminale e apro la finestra di terminale ma se non fosse così se non non aveste launch bar anche qui se siete interessati e in un futuro in un futuro video potrei parlare di questa applicazione che io trovo molto comoda per muoversi velocemente a mezzo tastiera nei vari programmi del nostro mac comunque possiamo anche aprire sostanzialmente spotlight la ricerca di spotlight quindi andiamo a cliccare qui e digitare terminale a questo punto vedete come è possibile aprire una finestra di terminale direttamente da da spotlight ridimensione rendo più più grande il testo di modo che riuscite a vedere bene come funziona l'ho già fatto vedere un altro video la prima cosa da fare è fare brew per aggiornare con gli ultimi pacchetti per avere il sistema funzionale anche qui dipende dalla connessione tutto il resto comunque l'update richiede un minimo di tempo vedete come ci sono vari pacchetti ci sono varie novità se andiamo a vedere questi sono i cac e casca aggiornati e queste sono le formule aggiornate tra cui appunto due che io ho installato proprio per questo motivo andiamo a scrivere brew upgrade per aggiornare il sistema ovviamente cercherò di velocizzare tutto con i soliti trucchi in post produzione per fare vedere per non farvi perdere tempo inutilmente benissimo una volta che abbiamo un brew aggiornato possiamo andare a installare tesseract innanzitutto andiamo a cercare prima tesseract e quindi digitiamo brew search tesseract ho sbagliato a digitare come potete vedere ci sono due formule a noi interessano tutte e due e dall'interfaccia di brew tra l'altro anzi adesso rendiamolo visibile meglio io le ho già installate infatti c'è la spunta di fianco perché ovviamente su questo mac ho già installato tutto vediamo come comunque come si installa brew install tesseract e a noi interessa in particolar modo perché tesseract nasce in lingua inglese quindi dobbiamo avere anche la lingua italiana presumibilmente è quello che ci interessa quindi tesseract lang premiamo invio e ovviamente nel mio caso specifico mi dirà che è stato già installato ed è pure anche aggiornato per cui posso farvi vedere l'installazione dovrei disinstallare e reinstallare tutto che non significa senso questo comunque sono i passaggi per installare su su macos tesseract bene adesso vediamo come funziona il comando nella sostanza e di fatto io ho già un pdf che è il seguente è un pdf che è inviato dal tribunale di reggio miglia ma giusto per darvi un'idea vedete che è un documento unico se vado a ampliarlo vedete come l'immagine si vede l'immagine di fatto abbastanza ben contrastata e e quindi dovrebbe funzionare abbastanza bene per il nostro ocr il primo problema che ci poniamo è che però tesseract come vi dicevo prima non gestisce i pdf direttamente il trucco abbastanza banale è quello di aprire il nostro pdf andare in file e fare esporta a questo punto abbiamo la possibilità di scegliere tif scegliamo il formato tif perché questo pdf è di tre pagine vedete qui in altro si dovrebbe vedere e quindi se esportassimo in un differente formato che comunque viene abitualmente supportato da tesseract ma se fosse in un altro formato non avremmola esporteremo solo una pagina e quindi ci troveremmo ovviamente a dover esportare le singole pagine nel pdf e poi convertirle una alla volta o creare uno script per convertire tutto che oggettivamente rende la cosa abbastanza inutile e complessa quindi salviamo ovviamente nella nostra catena di test questo file in formato tif e ci troviamo ovviamente il nostro file tif qui notate come questo documento è il documento originale il pdf originale sono tre pagine e sono un megabyte convertito in immagine l'immagine è 26 megabyte quindi vedete come è abbastanza scomodo utilizzare il formato tif immagine ma se la andiamo ad aprire sempre con anteprima vedete come il l'immagine il tif supporta appunto la multi immagine il multipagina diciamo e quindi è possibile ovviamente navigare in questo tif che ve lo ripeto è un'immagine direttamente come funziona il comando di tesseract allora il sistema è relativamente semplice la prima cosa che dobbiamo digitare è tesseract se schiaccio il tasto il tab a terminale si autocompletterà il comando se già installato ovviamente sul nostro mac la prima parte è ovviamente l'oggetto da convertire da inserire quindi nel nostro caso anzi scusate ho fatto un passo indietro siamo nella cartella sbagliata quindi devo fare cd desktop e test anche qui io non ho da evitare diciamo di fare di digitare non correttamente il testo mentre scrivo vedete posso scrivere te e poi siccome appunto nel desktop cioè sulla scrivania c'è una cartella nominata test il terminale nella sostanza mi autocompleta basta digitare tab quindi entro all'interno della cartella test vedete che a questo punto il terminale mi dice che sono nella cartella test se non sapessi in quali cartella sono devo digitare il comando pvd e vedete mi da l'intero percorso della cartella su questo computer ovviamente siamo nella home e all'interno della cartella desktop e così via quindi ridigitiamo ecco vedete che diciamo solo poche parole abbiamo svariate svariate possibilità di svariati comandi diciamo è presente su questo mac continuo e vedete che mi da invece tesseract corretto quindi a questo punto dobbiamo dobbiamo aprire questo file quindi iniziamo a digitare 01 nel caso specifico sempre tab e vedete che mi completa il nome del file con anche gli escape si chiamano per i caratteri speciali quindi è un primo escape per il lo spazio che c'è qua un secondo escape per la parentesi nella sostanza in terminale tutti questi caratteri sono speciali e quindi funzionano se li digitassimo normalmente la riga di comando non capirebbe che sono invece del file di testo se si è fermato al punto perché abbiamo due due file con lo stesso nome se andiamo a vedere vedete ce ne sono due di file pdf e il tif se io inizio a digitare t ovviamente mi completa correttamente pulisco e cancello quello che abbiamo visto fino adesso per farvi vedere un'altra cosa che credo sia utile ovvero se digito sempre tesseract posso anche digitare aperte virgolette digito 01 se clicco in questo caso vedete con le virgolette non ho bisogno di fare gli escape con la barra invertita nella sostanza quindi un metodo alternativo è anche questo e così intanto mentre facciamo questa che creata vi insegno alcuni trucchetti banali ma utili da terminale quindi digitiamo tesseract il comando digitiamo appunto il nome nel documento che vogliamo fare quindi 0 1 e tif a questo punto dobbiamo dare il nome al file finale di conversione quindi io darò adesso output semplicemente per convenienza dobbiamo a questo punto dirgli quale lingua utilizzare nel caso specifico trattino l ita cioè italiano e infine il formato in cui vogliamo la conversione pdf digitiamo vedete che tesseract sta lavorando e se tutto va bene ci troviamo con output pdf nella nostra cartella del finder lo apriamo e vedete che ora il testo è selezionabile notate anche come a prescindere dal fatto che il file originale fosse di 1,2 megabyte il file finale di output chiamiamolo così è invece più piccolo non di tantissimo ma è 827 kb quindi c'è stata anche un'ottimizzazione di fondo del sistema giusto per farvi vedere adesso apro text edit e lo vado nuovo lo trasformiamo in testo semplice premendo shift command t shift command t a questo punto grazie ai potenti strumenti apriamo i due pdf uno a fianco all'altro per rendere meglio comprensibili prendiamo questa parte iniziale del del testo selezionando facciamo command c anche qui aumentiamo la dimensione del testo perché così riuscite a vederlo bene e vedete questo è il riconoscimento testuale stato fatto l'unico errore che è venuto fuori è multi periodale che non so se italiano corrente o se è un giargale diciamo amministrativo però vedete come il riconoscimento è avvenuto in maniera notevole e l'ultima cosa che vi volevo far vedere se vogliamo sottolineare questo pdf possiamo farlo tranquillamente in varie modalità e questo ovviamente rende l'utilizzo di questi pdf molto più semplici per esempio se vogliamo andare a cercare presidente presidente vedete come nel testo viene riconosciuto e evidenziato da anteprima per cui vediamo già come il funzionamento di tutto questo sistema rende decisamente più comodo la gestione del tutto cosa che vi voglio far vedere prima di farvi vedere invece la macro di keyboard maestro e come ovviamente tutto questo tutti questi passaggi possono essere semplificati notarvolmente con le automazioni è come ricavare informazioni ulteriori su tesseract allora diciamo sempre tesseract trattino h che sta per help per avere un help veloce vedete e nella sostanza se andiamo a vedere il parametro trattino l che sta per lingua ovviamente più la lingua ci permette di modificare la lingua di conversione quindi se avessimo un documento in inglese un documento in tedesco possiamo comunque fare una conversione precisa con questi dizionari vediamo infine il funzionamento della macro di keyboard maestro di keyboard maestro ne ho parlato molto sul mio sito quindi non mi ci dilungo qui è un'applicazione che vi permette di automatizzare vari aspetti del vostro mac a un costo non eccessivo e se lo utilizzate abitualmente si ripaga immediatamente nel mio caso specifico innanzitutto vi faccio vedere come funziona la macro in semplicità e la macro viene generata con questo questa scorciatoia tastiera si possono fare tantissime cose in keyboard maestro seleziono nel nel finder appunto il mio il mio file digito vabbè questa combinazione tastiera che non è comodissima però mi serve per perché non va in conflitto sostanzialmente con altre con altre scorciatoia tastiera e come potete vedere ha generato un nuovo pdf con anteposto con lo stesso nome del file originale con anteposto post posto la scritta ocr per differenziarlo e per non andare a sovverscrivere il file originale e contemporaneamente siccome ha generato il file tif ha anche cancellato il file tif intermedio che avevamo creato noi e che ha creato lui stesso nella sostanza con questa automazione lo andiamo a vedere e come potete vedere il file è stato riconosciuto cioè il riconoscimento del testo è stato eseguito senza problemi non solo e addirittura rispetto al precedente è stata ridotta ulteriormente la dimensione e qui veramente si è ottimizzato al massimo vi faccio vedere brevemente la macro che è abbastanza semplice con questa con questo loop chiamiamolo così estraggo il percorso dove è salvato il file e appunto io mi creo queste variabili nella sostanza per creare il file finale con anteposto post posto il trattino cr il file intermedio il nome del file intermedio con l'estensione tif qui ci sono i comandi a terminale per convertire il file pdf in un tif multipagina e utilizzo il comando a terminale per mac sips e qui invece c'è ovviamente il comando che abbiamo visto prima con vabbè tutta una serie di variabili che qui poco importano ma nella sostanza questo è il file originale tif che abbiamo è passato a righe di comando nella parte iniziale del nostro video questa è ovviamente la cartella dove andare a salvare con il nome finale del file il file con l'ocr quindi col trattino cr qui appunto è il parametro l con lingua con ita per la lingua e infine il parametro pdf per dire che io lo voglio convertito nel pdf qui ci sono altre passaggi che non sono interessanti aspetto un secondo giusto solo per non andare a fare confusione con l'operazione precedente e poi dico ovviamente di cancellare sempre terminale cancellare il file tif intermedio dalla cartella in cui è stato creato da ultimo c'è una notifica che però siccome sto facendo il video e voglio evitare che compaiano a video le notifiche non si è vista ma tendenzialmente ho anche il report positivo dell'avvenuta conversione del nostro documento quindi vedete come utilizzando serie programmi a terminale e di fatto questa operazione la potete fare tranquillamente voi a casa sul vostro mac o utilizzando uno strumento più avanzato vi ricordo che se vi interessasse questa macro e se non vi interessasse minimamente sapere come funziona potete scaricarla dall'articolo che ho scritto su avvocati mac e comunque con questa macro non c'è neanche bisogno di sporcare le mani col terminale però è importante sapere come funziona la base a terminale proprio perché in questa maniera poi eventualmente potete fare le modifiche nel caso se per esempio volete convertire un documento in lingua francese piuttosto che tedesca piuttosto che una delle lingue supportate da tesseract bene per questo è tutto ci sentiamo alla prossima